Siamo passati dalle nanotecnologie a una scienziata italiana straordinaria, l'unico premio nobele, parliamo di lei con la nipote di Rita Levi di Montalcini, Piera Levi di Montalcini. Buonasera signora, si accomodi, buonasera. Con lei ci sarà anche Alberto Cappio che adesso vi introduco, due cose preliminari, anche qui c'è un libro che Piera Levi di Montalcini ha scritto, cade e decade il decennale della scomparsa della zia Rita che ha vissuto 103 anni devo dire molto intensi. Allora, presento intanto gli ospiti, Piera è nipote di Rita, ingegnere, fondatrice e presidente dell'Associazione Levi di Montalcini. L'Associazione si occupa di assistere i giovani nello scegliere con consapevolezza il lavoro di cui si sentono portati e di collegare gli enti titolati. Ne parleremo anche stasera perché parleremo anche dell'archivio, del materiale che la zia, non solo la zia, tutta la famiglia, è un'abitudine di famiglia non buttare via niente, quindi abbiamo dei documenti ancora dei trisnonni, via via avvicinandoci con le generazioni, per cui l'archivio è pieno di lettere, cartoline, documenti, quadri di zia Paola, di mobili di mio papà e quindi è un archivio secondo me importante perché tutti e tre erano persone al di sopra del normale. Zia Paola e papà avevano una vocazione artistica fin da molto piccoli, zia Rita ha scoperto quello che voleva fare invece da grande. E di questo ora parleremo in questa nostra chiacchierata che sarà una chiacchierata e qui entra anche Alberto Cappio perché Alberto Cappio è responsabile dell'attività di ricerca, valorizzazione e promozione dell'archivio della famiglia Levi Montalcini. Allora, cominciamo la nostra chiacchierata. Intanto vi ricordo che il libro sarà in vendita e è in vendita qui accanto e cominciamo, ricordo anche che in occasione del decennale abbiamo dedicato una copertina di Focus Storia pochi mesi fa a Rita Levi di Montalcini. Allora, cominciamo. Comincerei con una domanda a Piera. E la domanda che mi facevo anche leggendo le biografie quando abbiamo preparato il numero di Focus Storia, ma com'è stato vivere dentro una famiglia come la famiglia Levi Montalcini? Direi che è stato da incosciente, nel senso che per me era tutto ovvio e naturale e mi sembrava, come dire, una cosa che era così in tutte le famiglie. Direi che probabilmente non è così. L'unica cosa è che fin dall'inizio ho dovuto confrontarmi con delle capacità che io non avevo e che erano le capacità di disegno e di pittura che erano tipiche di papà e di zia Paola mentre zia Rita viveva in America, quindi era un po' più defilata il confronto con zia Rita. Con papà e zia Paola ero un confronto in cui ero assolutamente perdente perché sono incapace di tenere in mano una matita se non per i disegni tecnici, quelli che ho dovuto fare al Politecnico poi quando mi ci sono iscritta. Quindi su quello ero perdente. Sul resto era una vita assolutamente normale in mezzo a persone affettuosissime in cui tutte le difficoltà che possono avere i bambini venivano minimizzate e veniva invece esaltata quella parte del carattere che era più evidente e più marcata. Insomma, quindi non mi si diceva non sei capace a disegnare ma mi dicevano che brava che sei in matematica. È un modo elegante. È un modo elegante per ovviamente aiutare anche i bambini a crescere in maniera serena. Devo dire che la mia infanzia è stata come quella di tutti i bambini che hanno la fortuna di avere una famiglia in cui si va d'accordo, serena e tranquilla e che ho avuto delle difficoltà ma che sono state difficoltà che mi hanno aiutato tutti a superare. Che emozione è stata pescare nel baule per scrivere questo libro nel baule di casa Levi Montalcini ma che emozione è continuamente aprire il baule? È una grande emozione. Buonasera a tutti. Una grande emozione perché abbiamo, ce lo diciamo spesso con Piera, abbiamo riportato in vita quelli che abbiamo definito i parigini o meglio è un'invenzione di Piera quella dei parigini. Nel libro parliamo dei parigini utilizzando le iniziali dei quattro fratelli. Rita, quindi Pa sta per Paola, Rip sta per Rita, G sta per Gino e Ni sta per Nina. Quindi questi quattro fratelli che sono qua nascosti e quali vedete tutti e quattro avevano una bella abitudine, quella di scrivere. Con una collega di Focus che ci ha chiesto un contributo per i social questo pomeriggio scherzavamo e raccontavamo che per fortuna non esistevano i social un secolo fa perché avevano questa bella abitudine di scriversi delle lettere quotidianamente avendo il papà lontano, loro stavano a Torino, il papà per motivi di lavoro stava a Bari quasi tutta la settimana o comunque per molte settimane e mesi all'anno e quindi loro quasi quotidianamente scrivevano delle storie. Scherzavamo perché dicevamo che le storie sui social, cito Instagram per non fare nomi, se uno non si ricorda di metterle in evidenza dopo 24 ore spariscono mentre le lettere per fortuna sono rimaste. E quindi quando le tocchiamo ci sembra di riportare in vita questi quattro giovani sul balcone della loro casa di Corso Vittorio e grazie a queste lettere, ai ricordi di Piera e a un grande lavoro di ricerca storica che ci ha permesso di ricostruire la Torino e l'Italia di primo novecento fra le due guerre, quindi ricca tra l'altro di spunti per raccontare storie e quindi ci emozioniamo continuamente. Quindi grazie al direttore perché il viaggio è partito da Focus, grazie a Nicoletta Bortolotti che ci ha aiutato a scrivere, grazie a Maglia Mora perché ci dovrebbe essere ancora forse un'immagine. Il piacere è stato nostro. C'è un aspetto della vita che si conosceva. Testarda era Testarda. Sì, ma lo erano tutti. Esatto, in una famiglia di Testardi, la cosa particolare, in una famiglia di Testardi e di talenti perché bisogna dire entrambe le cose, lei fu fortissima e anche la sorella, insiste sulla pittura, che voleva fare quello. Il padre, quindi il nonno. La pittura era accettato come lavoro per le donne allora, nel senso che era visto come un hobby che le signore facevano a tempo perso, diciamo. Invece la medicina era una materia da maschi in una facoltà da maschi, quindi il pericolo era appunto mandare la zia Rita in mezzo a un mondo tutto maschile. Devo dire anche che il nonno probabilmente aveva molta sensibilità nel capire che la società non era ancora pronta per avere delle donne che andavano a studiare, tant'è che le sue sorelle che si erano laureate trovavano estremamente difficile far coincidere la vita familiare con quella lavorativa e quindi per lui era una cosa quasi normale che la figlia stesse a casa a badare alla famiglia come era d'abitudine. Poi zia Rita, molto sostenuta da zia Nina, c'è una lettera di zia Nina in cui zia Rita dice ho aiutato Rita e ne sono fiera nel convincere papà a lasciarla andare all'università. E questo all'inizio quando zia Rita era sfollata in Belgio e quindi all'inizio del suo lavoro, però già all'inizio del suo lavoro dimostrava un talento tale per cui era già considerata come una brava. Devo dire che oltre alle doti che lei ha menzionato c'è ancora una fortuna, quella che tutti abbiamo avuto la fortuna di scegliere un lavoro che era quello che ci piaceva. Quindi sia papà nel essere architetto, zia Paola a dipingere, zia Rita nel suo lavoro e poi io nel mio lavoro da ingegnere, ho sempre amato talmente tanto e loro amavano talmente tanto il lavoro che era un dispiacere doveva smettere di lavorare. Quindi direi non era tanto un sacrificio il lavoro quanto un divertimento. Non è stato però un percorso diciamo lineare. All'inizio anche Rita, quel 5 in pagella in scienze, non lasciava promettere benissimo. Quella è una delle sorprese. Mi chiedo appunto, esatto. Ma infatti quello che ripetiamo spesso con Piera è che non si nasce premi Nobel. Infatti una delle scoperte che un po' ci hanno stupito è, riguardando le pagelle soprattutto della scuola media, quella che vedete qui è del 22, quindi pensate un secolo fa. Terza media, un 5 in scienze, che in effetti c'è un po' stupito. Poi ha recuperato come, non so se si riesce a vedere, comunque, per cortesia l'immagine. C'è un 5, mi alzo, scusate, forse non si fanno queste cose. C'è un 5 e poi è passato a 6, quindi anche lei è riuscita a migliorare. Diciamo che abbiamo ricostruito il percorso scolastico anche grazie alle pagelle, grazie alle lettere, perché in questo racconto quotidiano cosa fanno i figli con i genitori? Prima cosa, tendono a giustificarsi o a spiegare cosa è successo a scuola, se è andata male l'interrogazione, le stesse cose che capitano adesso. Quindi questo ci ha stupito molto. E qui, vedete, questo è interessante, potremmo anche riportare i nostri ospiti sullo scrittoio di Rita. È una cosa che farei così al volo, perché non so se si riesce a leggere. Più che altro noi abbiamo fatto fatica, perché la scrittura di Rita è poi cambiata. Lei diceva che in famiglia era quella che scriveva con le zampe di gallina. Dopo, molto dopo. Ha avuto dei cambi di grafia incredibili durante la vita, probabilmente anche dovuti al fatto che scriveva talmente tanto che aveva bisogno di fare in fretta per scrivere. E quindi scriveva a piccole berrette. È abbastanza difficile leggere la sua grafia da adulta. E quindi bisogna allenarsi. Infatti ci siamo allenati molto e questo è interessante, perché saltiamo dalle medie al liceo. Negli anni venti, questa è una lettera del 1927, negli anni venti per pochi anni è esistito il liceo femminile. Il liceo femminile che lei iniziò nel 1924 ed era riservato alle ragazze della buona borghesia perché consentisse loro di diventare buone madri e brave mogli. Quindi tre anni di liceo che si concludevano con un esame tostissimo di maturità, terminato il quale non si poteva andare all'università. Quindi poi capiremo cosa è successo dopo, però vi leggo solo velocemente questa lettera che testimonia l'esame più difficile che sia capitato forse nella vita a zia Rita. Dice così, Torino 10 giugno 1927, carissimi sono ancora intontita per il brutto colpo che la sorte mi ha giocato. Figuratevi che in una mattina ho dovuto tagliare e cucire da sola una camicia da notte da donna. Era il tema più terribile e più temuto, tra quanti dovevano capitare, doveva toccare proprio a me. Voi siete troppo acerbi in materia per capire l'immanità del disastro. Mi pasti però che tanto era il lavoro che dovevo fare, che non ho avuto tempo che di dare due lecattine frettolose al gelato e poi per mancanza di tempo ho dovuto gettarlo via. Non vi vengono le lacrime agli occhi? E poi si fa consolare dalla mamma e per fortuna supera questa giornata assai triste e difficile perché l'importante è che una ragazza di quanti anni aveva? 18 anni. Quindi una ragazza di 18 anni fosse in grado di superare una prova del genere. Devo dire che da questa lettera si vede chiaramente lo spirito della zia che aveva un senso dell'umore enorme e questo viene fuori in tutte le lettere sue, cioè noi ci immaginiamo che fosse una persona sempre serissima che invece aveva degli exploit che io personalmente non l'ho mai avuto. Evidentemente sono più ingegnere di quello che lei era come medico, meno fantasiosa sicuramente. Poi ci fu una tragedia con cui venne in contatto, una tragedia personale, muore una governante a cui la Rita dei Montacini era molto attaccata e da lì scatta la molla della medicina. Una scintilla, sì perché nel leggere le lettere scopriamo che ha passato due o tre anni con qualche incertezza, forse non capiva bene sicuramente, non voleva fare alla buona moglie la brava madre, se no lo avrebbe fatto. E quindi passano questi anni e decide a un certo punto di affrontare il papà che in realtà, dato che spesso si dice il papà non voleva, però il papà di fatto ha consentito poi di affrontare gli esami da privatista perché quella licenza, quel diploma del liceo non consentiva di andare all'università. Quindi per potersi iscrivere a medicina, cosa che poi lei ha fatto nel 1930, ha dovuto affrontare degli esami difficilissimi, tostissimi. Quelli erano difficili sì, era una maturità vera in cui doveva portare l'esame di greco, di latino, doveva portare delle materie che aveva studiato latino e greco, il greco non l'aveva assolutamente studiato e quindi ha dovuto prepararsi rapidamente durante l'estate e ha trascinato in questa sua avventura la cugina Eugenia che era figlia della sorella della nonna e che aveva un anno in meno, anche lei alla ricerca di fare qualcosa e quindi tutte e due si lanciano in questa grande avventura. Quando loro si laureano in tutto, a laurearsi erano sei ragazze, quindi erano veramente poche. Torniamo all'aspetto familiare e anche alla sua esperienza diretta. Quindi lei è un padre architetto, un bravo architetto. Sì, molto. Una zia pittrice, testarda pure lei, eclettica in queste sue scelte, e una zia che stava cominciando una carriera che poi nessuno ha fermato. Ma ognuno di loro le ha lasciato un pezzetto e che cosa ognuno di loro le ha lasciato di particolare? Ma da mio padre ho imparato ad osservare, a guardare, a analizzare e a chiedermi perché, che era un insegnamento che lui ci ha inculcato fin da bambini. Da zia Paola direi la modestia da una parte, il fatto di sapere che, di non giudicare, di guardare, non giudicare e imparare e arricchirti senza esprimere dei giudizi. Da zia Rita, ma poi quello era comune a tutti, una tenacia incredibile nel lavoro. Non esiste la possibilità di riuscire bene anche nel lavoro che ti piace o anche nel gioco che ti piace se non ti applichi con costanza, con testardaggine, come diceva lei prima. Una testardaggine che è quella che ti permette di rifare le cose che hai sbagliato, di migliorare e di crescere imparando dagli errori che fai. Testardaggine che spinge Rita non solo a insistere, a scegliere la medicina, ma poi in quell'epoca, donna eccetera eccetera, si imbarca e va negli Stati Uniti. Va negli Stati Uniti e lì comincia un'ascesa obiettivamente inarrestabile. Negli archivi questi anni come sono raccontati? Escono fuori? Escono fuori, ma io ci terrei, stavo pensando prima mentre preparavamo, è vero che lei ha fatto 30 anni, chi conosce un po' la vita di Rita sa che di fatto ha fatto ben 30 anni negli Stati Uniti, dal 47 al 77. Inizialmente sempre negli Stati Uniti, poi ha iniziato a fare la pendolare, fra virgolette, perché stava un po' in Italia e un po' negli Stati Uniti. E quindi dalle lettere di quel periodo viene fuori una donna molto orgogliosa delle proprie ricerche, dei propri risultati, che racconta non quotidianamente ma con una grande frequenza alla mamma, e soprattutto alla mamma e a Paola che sono in Italia e ricevono queste lettere. Quindi la soddisfazione di grandi risultati. Una lettera di cui parlavamo prima con Piera del 49, in cui in poche righe racconta un po' che lei non ha rimpianti, è felice delle ricerche che fa, vive fra libri, embrioni e musica, e questo l'accompagna per 30 anni. Una cosa che però volevo evidenziare è che i risultati del premio Nobel, questa è una medaglia che ha fatto papà, che ha portato bene perché poi è arrivata la medaglia del Nobel, però le basi della ricerca e della scoperta di Rita sono avvenute nel momento forse più difficile della vita di Rita, perché lei per circa dieci anni ha fatto sì la pendolare, ma per colpa delle leggi razziali, del periodo della guerra. Quindi immaginate che forse il periodo più tranquillo sono stati i 30 anni negli Stati Uniti, perché lei dal 36 che si è laureata, nel 38 le leggi razziali, deve abbandonare l'università di Torino, nel 39 dice beh non posso studiare in Italia, vado in Belgio che si sta più tranquilli. Peccato che il Belgio a un certo punto rischio di invasione, allora torna in Italia, arriva al 40, però a Torino iniziano i bombardamenti, quindi da Torino va nell'Astigiano da sfollata, e fra Torino e l'Astigiano costruisce ben due laboratori, il primo nella camera da letto e il secondo nell'anticucina, ed è lì che avvengono le prime scoperte che poi l'hanno portata negli Stati Uniti con laboratori sicuramente più avanzati a proseguire nella ricerca per arrivare fino a questa medaglia. Quindi il messaggio che poi noi vogliamo dare ai giovani, ma il riscontro che abbiamo è che anche gli adulti che leggono il libro lo comprendono bene, è di non abbattersi nelle difficoltà, pensate al futuro che vi aspetta, pensate a ciò che potete fare e non temete niente. Era una frase famosa di Rita che abbiamo voluto mettere all'inizio del libro. Quindi dal nostro punto di vista è che nelle difficoltà Rita, già allora, dopo che ha superato l'esame privatista, e soprattutto l'esame della maturità con la camicia da notte, poi lì ne ha avute ancora di sfide da affrontare. E poi ci sono stati trent'anni in cui a quel punto era lanciatissima verso il 1986. Uno se la immagina tutta ad un pezzo questa donna, diciamo la verità. Nell'archivio o anche nei ricordi ci sono dei momenti in cui magari aveva degli attimi di scoramento, di sbandamento? No, scoramento magari no. Se c'era era assolutamente transitorio. Sostanzialmente era timida Zia Rita, uno non se lo aspetta, ma era una persona all'inizio insicura. Prima di ogni conferenza aveva sempre un momento, un po' di paura di affrontare il pubblico, ma subito dopo partiva con le sue conferenze, con le sue considerazioni, i suoi ragionamenti, e si dimenticava quasi di aver avuto paura prima. Più che paura, timore, insomma, incertezza. Era sicuramente una che non era tutta di un pezzo, era all'altezza, alla portata di tutti, cioè ascoltava tutti, rispondeva tutti, si ricordava tutto, aveva una memoria di ferro, questo sicuramente sì, si ricordava tutto quello che le raccontavano di tutti e quando li rivedeva, magari a distanza di due anni, si ricordava il nome della persona con cui stava parlando, il nome dei figli e che cosa aveva quella persona, aveva raccontato dei figli. Si ricordava in memoria tutti i numeri di telefono, non aveva il cellulare, quindi si ricordava i numeri di telefono e aveva questa capacità di interagire con gli altri che era formidabile. Sul lavoro era molto severa, mi hanno detto. Sul lavoro non perdonava, diceva che qualcosa andava fatto, quello andava fatto e andava eseguito al meglio, se no non passava lì. Diciamo anche che sul lavoro non ha perdonato niente a se stessa. No, sicuramente no. Io ricordo quando pubblicamo, mi colpì molto, quando pubblicamo la storia sul giornale, quella frase in cui negli Stati Uniti le chiedevano, trovandola sempre sola, perché lei diceva, non ho tempo per altro che per i miei studi, quando le chiesero, ma suo marito non lo porta mai, e lei rispose, io sono mio marito, lì ce ne vuole, eh? Eh beh, sì, ma è anche spiritoso, però, è anche spiritoso, perché devo dire che a me succedeva più o meno lo stesso, quando in ufficio telefonavano e chiedevano dell'ingegner Levi Montalcini, arrivavo io, mi chiedevano, ma io ho chiesto dell'ingegner Levi Montalcini e non della segretaria. Quindi anche lì era un'abitudine, cioè uno di quegli stereotipi che oggi pian pianino riusciamo a superare, ma che quando io ho incominciato l'università eravamo in sei ragazze su duemila e plus matricole, quindi eravamo veramente poche. Non avevamo i bagni per le donne, al Politecnico di Torino non esistevano, era una costruzione anche recente, quindi non era una cosa di chissà quando, di pochi anni prima, però non era previsto che ci fossero delle allieve femmine, solo ad architettura che stava da un'altra parte. Allora lì sì, da noi non c'era. Però non c'è mai stata difficoltà, né per lei né per me, ogni tanto ne parlavamo di questo e ci confrontavamo sulle rispettive esperienze e poi concludevamo che probabilmente il fatto di una donna che entra in un ambiente tutto maschile incute un tale timore che nessuno osa avvicinarla. Questa è una zombie, è piovuta tra di noi, teniamo la debita a distanza, non sappiamo che cosa ci dirà. Poi arriva, a questa zombie arriva il Nobel. Unica italiana a vincere il Nobel, ha dovuto aspettarlo giusto perché forse era una donna, probabilmente in altri casi l'avrebbe avuto prima. Lì ho una domanda a entrambi, arriva il Nobel, per uno scienziato immagino che sia cosa si può volere di più nella vita, arriva il Nobel, se la tirava la zia? No, mai, mai, almeno in famiglia mai, fuori non lo so, ogni tanto sì, ogni tanto un po', insomma. Era orgogliosa. Era orgogliosa, era orgogliosa anche moltissimo di essere stata nominata senatore a vita, questa era una cosa che la inorgogliva moltissimo. Forse anche di più, perché il motivo raccontava che proprio perché è arrivato dal suo paese, quindi comunque lei era italiana, quindi era uno dei motivi per cui essere senatrice a vita, l'aveva inorgoglita forse più del Nobel. Nell'archivio che accenni ci sono degli accenni al Nobel o delle valutazioni? Come lo raccontava lei stessa? Lei lo raccontava come una sorpresa, io non so quanto fosse veramente una sorpresa. Una volta mi ha confidato che l'avevano chiamata a luglia già al Karolinska per farle una sorta di esame e poi le hanno confermato che le avrebbero assegnate un Nobel, ovviamente a ottobre quando si nominano tutti i Nobel. Però forse non se lo aspettava più. Certamente quello che era più infervorato all'idea che avrebbe poi conseguito il Nobel era mio padre perché alla prima volta che è arrivato un annuncio su un giornale americano della sua conferenza in un simposio tutto di maschi, ovviamente, in cui si diceva che la scoperta era molto interessante, molto importante e papà la continuava a girare dicendo che Rita avrà il Nobel. Ah, lo aveva capito? Le aveva anche comprato una medaglia, una spilla, una spilla egizia, perché a papà piacevano moltissimo i geroglifici, e una spilla egizia che le ha regalato dicendo che quando prenderai il Nobel mettiti questa spilla. La zia l'aveva messa poi su una borsa, quindi se la portava sempre dietro. Purtroppo papà è mancato prima, però quel disegno che avete visto era proprio un augurio, era degli ultimi anni della vita di papà in cui c'è questo topolino che erano le cavie su cui lavorava la zia e il ferro di cavallo sotto al microscopio che era un augurio di buona fortuna. Chiudiamo a questo punto, lo spirito del libro lo fa capire. Voi avete in mano un tesoro, in un certo senso, perché è un tesoro di memoria e di messaggi che volete lanciare. Allora io mi chiedo e vi chiedo, che cosa ne volete fare? Perché? Perché? Dove volete arrivare col baule di famiglia? Io vorrei arrivare a far capire ai ragazzi che le cose si conquistano, che non è necessario arrivare per primi subito a sapere che cosa si vuole fare nella vita, che se si vuole cambiare il proprio settore di lavoro si può fare sempre, che non bisogna aver mai paura di quello che ti può succedere dopo perché tanto non è prevedibile e che i treni vanno presi in corsa. Se ti si offre un'opportunità che pensi che possa essere utile per la tua crescita, che poi riesca o non riesca questa opportunità, è sempre una cosa da fare e da provare. Cioè nella vita bisogna essere sereni e affrontare le difficoltà con quell'ottimismo che è chiaro che quando la salute ci abbandona è tutto un altro conto, ma se la salute c'è e tiene bisogna rischiare, bisogna vivere sereni e affrontare la vita in un modo che è quello di sempre. Cioè non è che dall'epoca di papà e zia Rita, che inizio novecento a oggi, l'uomo si è cambiato internamente. Sono cambiate le tecnologie, è cambiato il mondo che ci circonda, ma l'uomo è sempre l'uomo e quindi i nostri sentimenti sono sempre quelli, non cambiano. Per fare questo, ecco, quello che tra i vari progetti che abbiamo allo studio è quello di far incontrare i giovani con i paregini, che sono questi giovani. Vista l'esperienza anche al piano di sotto della realtà virtuale, non è una battuta anche l'idea di portare i paregini nel metaverso, potrebbe essere uno dei progetti allo studio. Così rincontriamo Rita. E possiamo usare anche il microscopio con loro, insieme a Rita. Grazie a tutti.